Un piano nazionale per rafforzare la lotta alla contraffazione, mettendo a sistema tutte le iniziative di contrasto intraprese da istituzioni e associazioni di categoria. Presentato a Milano in occasione degli Stati Generali contro questo fenomeno, il piano messo appunto dal Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, indica priorità e aree degli interventi per dare scacco matto ai falsari che erodono al sistema Italia valore posti di lavoro. Un fenomeno che dilaga dalla moda all'agroalimentare, dall'elettronica ai farmaci, che secondo il Censis genera un giro d'affari di 6,9 miliardi e un mancato gettito fiscale di 1,7 miliardi. 6 le mosse di intervento individuate nel piano comunicazione e informazione presso i consumatori, più di un italiano su due acquista prodotti contraffatti, rafforzamento del presidio territoriale, formazione delle imprese, lotta al falso via internet e tutela del made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero. Sistema camerale libera, alleati da più di due anni per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata a fianco di quelle imprese che scelgono di stare dalla parte della legalità. Ce ne parla Davide Patti della Presidenza nazionale dell'Associazione di Donciotti. È una collaborazione che nasce dall'impegno delle camere di commercio nei territori, un impegno a difesa della legalità, a difesa di quegli imprenditori, a tutela di quelle imprese che denunciano il racket, denunciano la presenza delle mafie nell'economia, l'usura. E quali sono i risultati più importanti conseguiti in questo periodo? La nascita di cooperative, di giovani che lavorano i terreni confiscati, che utilizzano quei beni e che producono dei prodotti di qualità e che vengono commercializzati con il marchio di Beraterra. Il sostegno a questi giovani è stato di straordinaria importanza per dare speranza e futuro al cambiamento.